Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Samira e oggi sono qui per ringraziarvi tutti quanti che siete iscritti al mio canale Io non me l'aspettavo questo treguardo, già siamo a 26, non ci credo ragazzi, allora, non ci credo, sono troppo emozionato appena controllato il mio canale Comunque grazie, grazie, grazie per tutto, per il supporto che mi date, cioè, io per ora faccio YouTube per passione, perché non lo sapessi ho 15 anni E niente, sono qua che sto registrando il video e che mi sono emozionata e sto muovendo un po' il telefono, scusate Non so come posizionarmi, aiuto Così? Forse si vede meglio così Così? Almeno Dite nei miei commenti, vabbè, non fateci caso alle inquadrature, però comunque va bene Sono molto happy, come dire, cioè, non so cosa dire, raga Non me l'aspettavo questo treguardo di nuovo Comunque, grazie anche al mondo creativo di Alessia Ragazzi, è una bambina che vive con dolori e fratture, credo Comunque io la adoro, io la stra adoro, la stra adoro, cioè, proprio spacca Allora, per ringraziarla, veramente Mi fa divertire quando tipo, sono giù moralmente, scusate dal sottofondo, non fate finta di niente Comunque grazie Cioè, grazie veramente, cioè, non ci credo Non so, per la mia emozione io vorrei dirvi la verità Anzi, vorrei ridirvela, perché l'ho già detto nel weekly vlog dove ho parlato, appunto, di un pezzo di una settimana Nemmeno di una settimana Tipo sabato e domenica? Sì Sabato barra domenica 4 e il 5 agosto ho vloggato E durava 36 minuti, ragazzi, se ve lo siete persi Allora Si chiama weekly vlog, comunque Il mio primo weekly vlog è durato 36 minuti Comunque ci sta E niente, sono molto emozionata Non so cosa dire, cioè, non mi aspettavo sto traguardo Bella sorpresa Poi pensavo che il mio canale fosse un nulla Cioè, un canale nulla Cioè, proprio Poi devo migliorare, lo so Poi devo comprare il cavalletto per il telefono Le luci, perché io registro Soprattutto col telefono, perché non lo sapesse Purtroppo io non so ancora editare col computer Sto editando col telefono Con un programma molto semplice Ma anche un po' difficile Perché a volte le clip si scombinano Quindi ci metto tipo due ore a volte a editare il video Questo, appunto, questo Questo programma per editare video Si chiama iMovie Non so se voi lo conoscete Secondo me è un Un, come dire Come posso dire Un programma per montare video Insomma E niente Dovete sapere che il mio nome è vero E Princess Si scrive P-R-I-N-C-E-S-S Ve lo ridico in questo video E niente E niente Scusate se trema veramente la voce Perché C'è Poi caricherò anche un video Dopo aver caricato questo Scusatemi Mi sto impappinando completamente Dopo aver caricato questo video Caricherò i consigli Di come mi trucco io E che se volete avere Un qualcosa di rosa sulle labbra E niente Spero Non so Scusatemi Cioè Allora Non so come posso Scrivetemi sotto i commenti Se volete essere salutati Comunque Da oggi in poi Voglio salutare tutti E E niente In realtà Volevo dirvi anche un'altra cosa Ragazzi e ragazze Se Voi volete Seguirmi Su Music.ly Adesso In questo video Ve lo lascio Nella descrizione Comunque Adesso Vi saluto Spero che questo video Vi sia piaciuto Iscrivetevi al mio canale Mettete un pollice in su Pollice in su Scusate Attivate la campanina Per essere sempre aggiornati I miei prossimi video E noi ci vediamo Nel prossimo video Saluta E Samira Vi saluto Con tanto Amore Tanto affetto E Ciao Un bacione Al prossimo video Ciao